salve a tutti benvenuti nel canale di passione uncinetto oggi realizzeremo insieme questo grazioso fiore paffe sicuramente adatto come applicazione nei vostri progetti quindi nei vostri lavori e vedremo insieme anche come unirlo quindi unire questi fiori in fra loro per realizzare delle borse delle poscette dei portatelefonini comunque si possono realizzare veramente tantissime cose quest'anno spopola questo fiore paffe quindi questi progetti realizzati con questo tipo di fiore e quindi ho pensato di portarvelo sul canale prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video in più vi volevo invitare a seguirmi sulle mie pagine facebook instagram e tik tok e lì cercherò con delle storie dei post di anticipare ciò che poi porterò qui sul canale e in più faremo dei sondaggi per decidere insieme i prossimi progetti se il video vi piace lasciatemi un pollice all'insù e ora andiamo alla presentazione dei materiali per questo progetto utilizzerò cotone ighi rosa giallo e bianco lo lavorerò con uncinetto numero 3 e poi avrò bisogno un paio di forbici prendiamo il cotone giallo e quindi facciamo la parte centrale del fiore facciamo un cerchio magico entriamo con l'uncinetto prendiamo il filo e facciamo una catenella dentro il cerchio magico lavoriamo 12 maglie basse due tre quattro cinque sei sette otto 9 10 11 e 12 tiriamo la codina del cerchio la stringiamo per bene rientriamo nella solina e ci chiudiamo nella prima maglia che abbiamo fatto con maglia bassissima catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo ora prendiamo il rosa quindi la codina che abbiamo appena chiuso la sistemiamo vicino alla lavorazione prendiamo un pezzetto di filo e lo sistemiamo anche qui in questo punto entriamo nel punto successivo la chiusura ci tiriamo il filo e facciamo due catenelle filo sull'uncinetto entriamo nello stesso punto e facciamo una maglia alta non chiusa di nuovo nello stesso punto ne facciamo un'altra e un'altra ancora quindi tre maglie alte non chiuse nello stesso punto di nuovo filo sull'uncinetto entriamo nel punto successivo e lavoriamo sempre tre maglie alte non chiuse due e tre abbiamo due gruppetti di tre maglie alte non chiuse chiudiamo tutto insieme facciamo passare il filo facciamo la catenella di chiusura e due catenelle entriamo nel punto dell'ultimo gruppetto lavorato e ci chiudiamo con maglia bassissima e abbiamo realizzato il primo petalo continuiamo facendo due catenelle entriamo nel punto successivo guardate e realizziamo una maglia alta non chiusa due e tre nello stesso punto nel punto successivo realizziamo sempre tre maglie alte non chiuse sempre nello stesso punto chiudiamo tutto insieme due catenelle entriamo nel punto che abbiamo appena lavorato e ci chiudiamo con maglia bassissima e questo è il secondo petalo dobbiamo continuare a lavorare un petalo in due punti quindi tre maglie alte non chiuse e tre maglie alte non chiuse e poi chiusi insieme per un totale di sei petali facciamo l'ultimo petale insieme come vedete ci sono avanzati due punti 1 e 2 ho fatto le due catenelle entro nel punto successivo realizzo tre maglie alte non chiuse completamente e nel punto seguente 3 maglie alte non chiuse 2 e 3 chiudo tutto insieme 2 catenelle e dentro nello stesso punto con maglia bassissima faccio una catenella aggiuntiva e taglio il filo sistemo guardate con il dito i petali e questo è il nostro fiore puff che abbiamo appena realizzato ora per poter fare farvi vedere come unirli in fra loro e vi devo dire in primis potete unirli anche dopo che li avete fatti con l'ago quindi prendete un ago del filo comunque o di uno dell'altro comunque e li unite io vi farò vedere l'unione fatta all'uncinetto e l'unione viene fatta facendo lavorando il secondo fiore e poi unendolo direttamente vi faccio vedere subito ho lavorato guardate uno due tre quattro petali dell'altro fiore la prima unione si fa con due petali per le unioni successive che ora vi farò vedere i petali da unire sono 12 quello centrale e tre quindi dall'unione successiva dobbiamo unire tre petali da questo quest'unione che la prima ne uniamo due quindi ho lavorato i miei quattro petali quindi inizio la lavorazione del quinto petalo faccio due catenelle entro nel punto successivo e mi lavoro il petalo quindi tre maglie alte non chiuse vado nel punto seguente e mi lavoro sempre tre maglie alte non chiuse 2 e 3 chiudo tutto in questo caso non faccio la catenella stacco un pochino il lavoro prendo il petalo che già voglio unire quindi già fatto lo giro a rovescio e dentro guardate qui in cima dove si vede appunto il punto prendo la solina e la porto all'interno faccio due catenelle e dentro qui nell'ultimo punto lavorato facendo una maglia bassissima come vedete questo è il dritto del lavoro e questo è il rovescio così deve vi deve risultare la lavorazione faccio due catenelle e mi lavoro l'ultimo petalo quindi lavoro il petalo come ho fatto finora lavoro l'ultimo punto faccio l'ultima maglia chiudo tutto insieme quindi faccio passare il filo in tutte le asoline ok stacco con l'uncinetto qui guardate o il rovescio si vede perché ho la codina del filo non vado in questo petalo ma vado in questo quindi quello più vicino a me entro sempre qui nella parte di sopra prendo la solina e me la tiro all'interno 2 catenelle e mi chiudo nel primo punto quindi nel punto appena lavorato con maglia bassissima catenella aggiuntiva e posso tagliare il filo ora vi faccio vedere ecco abbiamo unito al rovescio e questa è la parte dritta della lavorazione con l'unione poi giustamente con sempre col dito sistemate i petali dell'uno e dell'altro e questa è la prima unione ora vi faccio vedere come unire questo punto quindi questo petalo qui tutto insieme e qui quindi tre petali lavoriamo un fiore con tre petali e gli altri tre li uniamo insieme ho preparato un fiore giallo con l'interno bianco ho fatto i miei tre petali ora dobbiamo unire 1 2 e 3 giriamo il lavoro quindi quello che noi dobbiamo prendere per primo e questo petalo poi questo e poi questo quindi prepariamo il petalo ci realizziamo con due catenelle entriamo nel punto successivo e prepariamo il primo petalo da unire quindi ce lo lavoriamo andiamo nell'altro punto 2 entriamo sempre nello stesso mondo e facciamo l'ultimo punto uniamo tutto insieme prendiamo il filo ok prendiamo la lavorazione entriamo qui sempre in cima del petalo ci tiriamo la codina all'interno così 2 catenelle entriamo nello stesso punto dove abbiamo lavorato e ci chiudiamo con maglia bassissima continuiamo per il petalo successivo quindi ci lavoriamo il penultimo petalo quello che dobbiamo unire al centro chiudiamo insieme tiriamo un pochino andiamo qui al centro entriamo nel mezzo dei petali quindi non prendiamo un punto in particolare entriamo nel mezzo ci prendiamo la solina e ce la portiamo qui all'interno e la facciamo uscire dall'altra parte facciamo due catenelle e continuiamo la lavorazione nel petalo sempre giallo ora guardate lavoriamo l'ultimo petalo quindi gli ultimi due punti entriamo nel primo sembra complicato però vi posso assicurare che è semplice dovete capire solo il sistema dell'unione ci lavoriamo il primo petalo e c'è la prima parte la seconda parte chiudiamo insieme lasciamo guardate siamo così 12 entriamo in questo petalo sempre in cima prendete ecco il punto per intero prendiamo la solina ce la portiamo all'interno così due catenelle e terminiamo il fiore maglia bassissima catenella aggiuntiva e possiamo tagliare il filo mettiamo dal dritto tutta la lavorazione sistemiamo i petali guardate e l'unione è perfetta tutta dal dritto quindi per unire gli altri dobbiamo sempre fare in questo modo qui quindi in questo petalo al centro e in quest'altro quindi i primi due vengono uniti con due petali e tutti gli altri con tre guardate questa è la lavorazione che ho fatto io tutta unita poi si può continuare qua 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 cioè in tutti gli spazi fra i fiori quindi dal rovescio quello cioè io ho lasciato le codine proprio per farvi capire l'unione in modo perfetto perché si uniscono dal rovescio quindi quando noi giriamo tipo in questo caso dobbiamo unire un altro metti che lo dobbiamo unire qua cosa facciamo giriamo la lavorazione primo petalo da unire questo quindi alla nostra destra centrale sempre dal rovescio e l'ultimo è a sinistra sempre in ogni unione che facciamo tant'è vero che si possono girare ecco se vogliamo unire qua destra centro sinistra e nella parte dell'unione verrà poi tutto dal dritto spero che abbiate capito il meccanismo vi posso assicurare veramente che è semplicissimo e vi esorto di provarlo perché veramente magari nel video nella spiegazione non magari qualcosa non mi convince però poi provandolo vi posso assicurare che il lavoro cammina perfettamente e viene un lavoro comunque ben fatto quindi perfetto sicuramente per fare dei piccoli pannelli per per fare dei progetti per ricoprire una borsa è l'ideale piuttosto che magari cucirlo con l'ago oppure attaccarlo con la colla a caldo ecco questo è un semplice metodo per fare un pannello ed unirlo magari in una borsa inghiuta oppure in feltro e quindi fare la nostra borsetta la nostra tracolla poscette comunque già sagomata spero che il video vi sia piaciuto se è così lasciatemi un mi piace al video e condividetelo se avete delle domande da fare commentate qui sotto sulla mia pagina facebook o instagram passione uncinetto io sarò lieta di rispondervi vi ringrazio come sempre di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video